Il valore di un'opera dipende dal suo marketing. Non ci credi? Non ci crede lui. In questo video, con un esempio molto pratico, ti dimostrerò questa cosa e andremo a rispondere ad alcune domande. Ad esempio, la bellezza di un'opera d'arte è oggettiva o è soggettiva? Tu, che sei un artista, saresti in grado di distinguere un'opera realizzata da un professionista rispetto a una realizzata da un bambino? E se ti mostrassi quattro quadri, uno che vale 10.000 dollari e gli altri fatti in due secondi da gente a caso, tu saresti in grado di distinguere quello da 10.000 dollari? A queste domande risponderemo in questo video e ti farò capire che l'arte di per sé non ha valore, ma il suo valore gli viene dato dal marketing e quindi se il tuo marketing fa schifo, le tue opere varranno zero e zero sarà anche il tuo cachet, ma se lo dimostrerò in maniera molto pratica e sarai tu stesso a verificarlo. Ma prima di cominciare mi presento. Ciao guerrieri, io mi chiamo Red Sky, sono un musicista anch'io, come voi, e ho un'agenzia di marketing per musicisti con cui insegniamo agli artisti a creare contenuti virali, quindi che fanno tantissime views per portare attenzione sulla vostra musica e quindi poter costruire la vostra fanbase, dedicando a questa attività solo 5 minuti al giorno e mantenendo anche la propria dignità. Se vuoi saperne di più in descrizione trovi un mini corso gratuito che ti spiega tutto quanto e se vorrai potrai anche poi prenotare una call conoscitiva gratuita per vedere se ci sono i presupposti per lavorare insieme, quindi mi raccomando clicca in descrizione. Detto questo partiamo subito. Allora, ieri stavo guardando un video di MrBeast che è credo lo youtuber più grande del mondo, c'ha tipo 300 milioni gli iscritti solo su un canale e poi c'ha tutti gli altri, e in questo video lui faceva delle gare, diciamo, e una di queste gare era far entrare una ragazza in una stanza, c'erano quattro quadri dove un quadro era stato realizzato da un artista professionista e valeva 10 mila dollari. Gli altri tre erano stati realizzati da loro, insomma, dallo staff a caso in due secondi, un minuto prima, e quindi non valevano niente. E la ragazza doveva indovinare quale tra questi quattro quadri era quello fatto da un professionista e del valore di 10 mila dollari. Ora, in teoria dovrebbe essere facile, no? Se ragioniamo come ragioniamo di solito e come ragioniamo con le canzoni, sarà palese quello fatto da un professionista e quello fatto da uno che passava di lì a caso in due secondi. Se uno vale 10 mila dollari, gli altri valgono zero, sarà palese riconoscerlo. Sai com'è andata? Che al primo tentativo la ragazza ha sbagliato, gli hanno dato un altro tentativo e ha sbagliato di nuovo, gli hanno dato un altro tentativo e ha sbagliato di nuovo. Quindi praticamente ha scelto i tre che valevano niente e non è riuscita a indovinare quello da 10 mila dollari. Cioè, quello da 10 mila dollari è stata la sua ultima scelta. Quindi non solo non ci ha azzeccato, ma è andata proprio nella direzione opposta. Cioè, secondo lei, cioè, quello da 10 mila dollari, anziché sceglierlo subito, l'ha scelto per ultimo. Quindi per lei quello era quello che valeva meno. Ora, questa cosa dovrebbe illuminarci su tantissimi concetti. Il principale è il fatto che l'arte di per sé non ha un valore. Ha solo un valore percepito. Cioè, l'arte di per sé, nel caso dei quadri, l'unico valore che possiamo dargli è il prezzo della tela, il prezzo dei colori e le ore di lavoro che sono state impiegate per farlo. Se la consideriamo una cosa pratica, come fosse un trapano. Se invece la vogliamo considerare appunto come arte, a quel punto come fai a determinarne il valore. Cioè, non c'è un modo pratico per dire questo quadro vale mille o vale sei mila. E quindi entrano in gioco tutte, tutta una serie di altre componenti che sostanzialmente rientrano nel cappello del marketing. Quindi ti faccio degli esempi. Se lo stesso quadro lo ha realizzato un artista famoso, immediatamente vale di più rispetto a se l'hai fatto tu. Se lo stesso quadro ha dietro una storia affascinante e ispirante, vale molto di più. Se l'artista che ha fatto quel quadro, mettiamo anche che sia sconosciuto, ma pubblica su Instagram una foto insieme a Gerry Scotti, improvvisamente vale di più. Tutto questo è valore percepito. E qui entra in gioco un altro argomento, prima che mi lincino i professionisti del mondo dei quadri. Se stiamo parlando di esperti, è un conto. Cioè, un esperto forse può capire quale vale di più, quale vale di meno. Ma se tu vuoi vendere alle persone normali e tu da musicista vendi alle persone normali, il tuo pubblico non è che sono critici musicali, la gente non ne capisce un cazzo. Cioè, come fa a sapere che quel quadro con tre puntini vale 20 mila dollari e quell'altro quadro con tre linee invece non vale niente? Cioè, soprattutto nell'arte moderna non si giudica più la tecnica, si giudicano altre cose, il messaggio e soprattutto il brand, quindi chi è che l'ha fatto quel quadro. E tra l'altro, anche se vogliamo andare tra i critici musicali e tra i professionisti, gli addetti ai lavori, siamo sicuri che se ne intendano? Perché se vai ad informarti un attimo sull'arte moderna, io ho letto il libro ad esempio Lo Squalo da 12 milioni di dollari, ti fa capire che quando si parla di arte concettuale, di arte moderna, non ne capisce un cazzo nessuno. Cioè, gli artisti a volte fanno cose a caso per provocare. Quelli che le comprano, le comprano per far vedere che sono ricchi. Le aste, cioè le case che ospitano questi quadri, le prendono perché l'artista è famoso, quindi alla fine nessuno ci capisce un cazzo. È tutto un gioco dove ognuno vuole apparire intelligente e intenditore e ricco e quindi c'è questa, diciamo, menzogna condivisa che fa sì che si è deciso che quelli valgono e quegli altri no. Ma non c'è una cosa oggettiva. È tutto molto labile e quindi se le cose stanno così e stanno così, perché nel caso delle canzoni è molto simile all'arte concettuale, cioè anche nella musica un conto è se tu vai sulle cose ultra tradizionali, quindi prendi un musicista classico o un cantante lirico, allora lì è palese chi è bravo e chi no, perché lì si giudica la tecnica. Ma se usciamo un attimo dagli addetti ai lavori e andiamo nella musica che il pubblico ascolta, non è così chiaro chi è bravo e chi no, non è così chiaro chi merita e chi no, altrimenti non avremmo le classifiche che abbiamo oggi. Non ci sarebbe la trap, non ci sarebbero molte cose se fosse facile capire la qualità artistica rispetto all'immondizia. Quindi se le cose stanno così e stanno così, sia nell'arte moderna, concettuale, visiva, sia nel caso della musica, partendo dal presupposto che il pubblico non è un esperto, quindi non ne capisce niente, quindi non è in grado di distinguere la qualità dallo schifo, l'unica cosa che valutano è la percezione. E quindi torniamo al discorso di prima, se sei famoso allora improvvisamente sei figo, oppure se sei emergente ma sei associato a qualcuno di famoso perché ci hai collaborato, ci hai fatto una foto insieme, anche lì improvvisamente vali di più. Se hai suonato in qualche posto figo, improvvisamente vali di più. Che ne so, se... che esempio abbiamo fatto prima con l'arte concettuale? Vabbè sì, se c'è uno storytelling dietro molto più affascinante, ovviamente vali di più, perché un conto è dire ho fatto una canzone, un conto è dire ho fatto una canzone dopo che ho sparato al Papa. Cioè ovviamente diventa più di valore quella canzone perché c'è una storia dietro. Quindi capisci che di per sé le canzoni, i quadri non valgono niente e nessuno è in grado di dire questa vale tanto, questa vale poco. E l'abbiamo visto con l'esperimento, cioè ti metto davanti quattro quadri, uno l'ha fatto un professionista, vale 10.000 dollari, l'altro sono degli scarabocchi fatti a caso e la gente non distingue. Ma ci sono mille esperimenti che hanno fatto, cioè una volta ha messo tipo un estintore o degli occhiali per terra in un museo e la gente pensava fosse un'opera. Cioè nessuno è in grado ormai di capire cosa è qualità e cosa no, vale tutto. Quindi l'unica arma che la gente ha per capire è a sensazione, è il principio del vedo il ristorante vuoto, non mi fido, vedo il ristorante pieno con la fila, deve essere buono. Che non vuol dire assolutamente poi che la qualità effettivamente ci sia. Ma la gente giudica così. Quindi per quanto non ci piaccia questa è la situazione. Per cui qual è la tua unica chance, qual è la tua arma per far sì che la gente pensi che tu sei bravo e ti ascolti? È quella di essere percepito appunto bene. Quindi non come un emergente pezzente come dicevamo nell'altro video sulle paraolimpiadi come un artista di serie B, ma come un artista figo che si presenta in modo professionale, quindi appare in maniera professionale, che ha una storia, che comunica in maniera professionale e che fa del gran marketing. Poi se riesci anche ad avere degli ottimi risultati o essere un pochino famoso o essere associato a qualcuno di famoso, ancora meglio. Ma comunque il fatto di farsi percepire in maniera professionale fa sì che la gente pensi che tu sei professionale e di conseguenza il tuo cachet è più alto, di conseguenza le tue canzoni valgono di più, vengono considerate più di qualità. Infatti se ci fai caso, quando commetti il grave errore di litigare nei commenti con qualcuno, soprattutto con i ragazzini, cos'è che ti dicono? Ti dicono, ah beh se sei così bravo allora perché non sei famoso? Oppure sfere basta, è automaticamente di qualità perché ha i numeri. Quindi se tu lo critichi vuol dire che sei invidioso. Cioè il ragionamento che fanno è questo. E spesso vanno ad ascoltare qualcuno solo perché è famoso e un altro non lo ascoltano perché non ha i numeri. Quindi più si va avanti, più questo discorso orribile diventa forte. La gente giudica in base all'apparenza, cioè i numeri, la fama. Perché non è in grado di giudicare oggettivamente un'opera. Non sono in grado di capire che Dargen d'amico scrive meglio di sfere basta. Cioè quello che capiscono è lui ha un milione di ascoltatori, lui ha 200.000 ascoltatori, ok quello che ha un milione è più bravo. E se tu lo critichi vuol dire che sei invidioso. Quindi questo meccanismo a me fa schifo ed è orribile. Quindi non ti sto dicendo che dobbiamo piegarci a questo meccanismo. Ti sto dicendo però che se le cose stanno così, noi innanzitutto dobbiamo fare musica di qualità per contrastare lo schifo. Ma poi dobbiamo anche essere bravi a farci percepire bene. Perché solo così potremo avere la nostra chance. Perché se tu ti ostini a metterla sul campo oggettivo, sul campo tecnico, tu dici io sono mille volte più bravo di sfere basta guarda qua ti ho scritto un testo della madonna. Non funziona perché la gente non è in grado di capire che tu sei più bravo tecnicamente o concettualmente. Non sono musicisti. E comunque anche se lo fossero ne sarebbero comunque influenzati dal marketing. Quindi non te la puoi giocare sul campo pratico. Quello ce la devi avere, il talento, la qualità, ma perché ci interessa a noi, cioè nel senso ci teniamo noi. Ma a livello di popolarità, di successo, di business, non è quello che fa la differenza. È la percezione. E infatti basta vedere la cantante che ha fatto baccalà. Prima non la chiamava nessuno ed era bravissima. Adesso la chiamano tutti. Il talento è sempre quello. Semplicemente adesso ha 6 milioni di views sotto il reel e quindi è famosa. Viene percepita immediatamente di successo e quindi tutti amici adesso. Se il successo finisce, gli amici scompariranno e anche le opportunità scompariranno. Quindi è così che funziona. Per cui, riassumendo, se fossimo un secolo addietro, dove l'arte era, diciamo, tecnica ed era poca, allora si capisce subito lui è bravo, lui no. Oggi non si gioca più sulla tecnica. Il campo si gioca sulla percezione, sul messaggio, su queste cose qua. Quindi è intervenendo sulla percezione, sul messaggio che tu ti fai percepire bravo, diciamo, non sulla tecnica. Ed è per questo che è pieno di immondizia popolare e di qualità sconosciuta. Perché state sbagliando il campo di battaglia. Cioè voi siete convinti che si stia combattendo con le spade e invece si sta combattendo con i jet e le bombe. Quindi se tu continui a filare la spada, non serve. Puoi avere il testo migliore del mondo registrato meglio con gli strumenti migliori del mondo, ma non è quello che la gente valuterà. Valuterà la percezione. Quindi o diventi bravo nel marketing o altrimenti tutta quella qualità lì te la ascolti tu e basta. Rimane qualità che nessuno scoprirà. Quindi va bene la qualità, ma ci vuole sopra anche il marketing. Altrimenti a livello di percezione avrai sempre perso. E ripeto, nell'esempio dei quadri, non solo non ci ha azzeccato, ma l'ha scelto per ultimo. Cioè quello che era più di qualità e che valeva di più per la gente normale era il più brutto. Era quello che a loro sembrava quello fatto a caso. Quindi renditi conto che potresti essere il miglior artista d'Italia e potresti anche essere contemporaneamente quello percepito più schiappa. Perché non sai comunicare. Più schiappa non tecnicamente, ma diciamo il più sfigato, il meno di successo. Quindi è molto importante, è tutto. Il marketing è guerra di percezione. Ricordatelo che non è una battaglia di prodotti oggettivi, è guerra di percezione. Quindi di apparenza. Che non vuol dire essere superficiali, vuol dire che per etica noi comunque saremo profondi e faremo le cose come Dio comanda, ma per vincere la battaglia del marketing bisognerà essere bravi nel farsi percepire come vogliamo noi, nell'apparire come vogliamo noi e non nell'apparire in maniera sbagliata. Come anche Trump che gli hanno sparato, ma per non farsi percepire debole ha fatto la foto col pugno alzato. Quello è il marketing. Quindi mi raccomando, spero di averti fatto capire quanto è importante. Se vuoi fare un passo in questa direzione, guardati il mini corso gratuito oppure scrivimi in DM su Instagram che vediamo cosa possiamo fare per te. Detto questo, come sempre ti do appuntamento domani mattina sempre alle 9. No, non è vero perché oggi è venerdì, quindi domani c'è il podcast dei libri su Spotify che si chiama Riassuntini di Marketing Musicale. Con questo podcast ci vediamo lunedì. Ciao guerrieri!